Al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, ormai da giorni non si accettano ambulanze in codice verde e bianco. I reparti sono saturi di pazienti Covid, non c'è più posto. Questo ospedale è stato uno dei grandi hub della prima ondata. A marzo e aprile ha accolto pazienti da Bergamo e Brescia, ora si chiede che il senso di marcia sia invertito. Negli ultimi 20 giorni noi abbiamo trasferito circa 200 pazienti in altre zone, ma quelle che non ci siamo procurati all'interno della nostra zona dell'Abrianza sono solo 60. Il personale sanitario è allo stremo, turni infiniti per medici e infermieri. Perché spesso i colleghi non possono lavorare perché positivi o per rispettare gli isolamenti cautelativi? Con quel numero di non presenze abbiamo sicuramente bisogno di aiuto anche dall'esterno, motivo per il quale io ho chiesto alla Direzione Generale Welfare di valutare la possibilità anche di fare intervenire forze militari o della protezione civile. È tutto un territorio travolto dalla pandemia. Qui è arrivata ora la grande ondata. Prefetto, sindaco e autorità sanitarie ormai da fine ottobre si sentono ogni giorno. La Regione ha già disposto un alleggerimento per quanto riguarda la presenza dei pazienti nell'ospedale San Gerardo. Continuare a fare un appello, che abbiamo già fatto più volte, a tutti i cittadini di Monza e della Brianza al rispetto puntuale e meticoloso delle regole.